Insisto sulla incapacità dell'amministrazione Melucci di fare turismo e prima ancora di garantire un minimo di vivibilità urbana. Mi trovo a lungomare, dinanzi alla mastodontica e favolosa fontana di Piazza Ebalia, da mesi tristemente spenta e abbandonata a se stessa. Guardate che scempio, guardate che tristezza. Il turista che immagine si fa di Taranto? Il cittadino di Taranto che immagine si fa purtroppo dei nostri amministratori? Il vice sindaco è assessore al turismo, al marketing territoriale, allo sviluppo economico. Manzulli cosa pensa? Di voler promuovere il territorio attraverso questo stato di degrado e questo stato di abbandono? Il bello sapete qual è? Che proprio dinanzi alla fontana, proprio nell'ottica di far vedere della logica dell'apparenza, hanno messo, guardate, questa struttura in cui si scrive Welcome to Taranto, Benvenuti a Taranto, Comune di Taranto, Capitale del Mare. E guardate qui le altre favole, le solite favole, le chiacchiere, gli inganni, le bugie, le ipocrisie dell'amministrazione Melucci. Taranto, Capitale del Mare, di Mare, Comune di Taranto, ecosistema Taranto 2026. E poi questo schifo, questa incapacità di amministrare Taranto. Non siete all'altezza politicamente, amministrativamente di gestirla. Come si fa a promuovere il turismo con una fontana spenta? E avete il coraggio per far vedere la logica del fumo, delle chiacchiere, dell'apparenza. Guardate, si mette questo e poi si tiene una fontana spenta. Ma cos'è una caricatura? Melucci, Manzulli, cos'è una caricatura? Una caricatura sulle spalle dei turisti e prima ancora una caricatura sulle spalle dei cittadini. Ma quali sono i problemi di questa fontana? Perché questa fontana non viene riattivata? Perché non vengono stanziati i fondi per riattivarla? Non è solo un fatto estetico, è un fatto sostanziale. Perché si dà lustro, si dà bellezza al territorio. Immaginate una bella città, tante ne abbiamo in Italia, con le fontane spente. Che vergogna, che scempio! Da consigliere comunale vi farò pelo e contropelo. Devo capire perché accadono questi scempi. Fa male ai tarantini vedere la favolosa, la mitica fontana di Piazza e Bali in questo Stato. Una fontana spenta come avete spento la città, come l'amministrazione Melucci ha spento la nostra Taranto. Riflettete, cittadini, riflettete. Soprattutto voi che l'avete votato. Soprattutto voi che l'avete votato.